Sì, alla Tuil, una storia lunga 70 anni, dalla prima seggiovia creata grazie all'azionariato popolare alla tappa di Coppa del Mondo. Buonasera, ben ritrovati dalla TGR della Valle d'Aosta e dunque tempo di candeline alla Tuil, che celebra i 70 anni da località sciistica di primo piano del panorama nazionale e internazionale. Vediamo il servizio. Paese di frontiera, terra di Alpini, come si leggeva nelle cartoline di una volta, la Tuil festeggia in questo 2018 i 70 anni da località turistica. Una parabola, quella dell'industria ricettiva ai piedi del piccolo San Bernardo, nata dal basso, dall'impegno e dall'ingegno degli abitanti di queste valli. Erano oltre 1500, sette decenni fa, in buona parte immigrati da Veneto e provincia di Bergamo, per lavorare nelle miniere. Minatori con i bastoncini in mano. Un gruppo di loro fu persino capace di fondare una scuola di sci alpino. Primo sintomo di quella nazional popolarità degli sport invernali, noti e meno noti, che si è mantenuta fino ad oggi. Qui la prima seggiovia nel 1948 è nata dal nazionariato popolare. Siamo tutti figli di minatori, figli di contadini, ma hanno visto lungo, hanno messo tutti i soldi i nostri genitori per iniziare con la nuova seggiovia. Da quel fatidico 1948 di capitali ne sono piovuti sulla seggiovia e sui vicini alberghi, dai franchi svizzeri a quelli francesi. Di certo il momento di maggiore notorietà di Latuil nel panorama sportivo internazionale è stato il fine settimana di Coppa del Mondo del febbraio 2016. Devo proprio ringraziare personalmente, allora, Rosino, Bertò, che è stato consigliere fisica tuttora, che ha lavorato insieme a tutti gli altri, perché sono stati fatti anche dei grossi, grossi lavori anche sulle piste. Non solo sport elite, però, Latuil vive anche di manifestazioni come i campionati nazionali di sci alpino della Wisp, associazione che pure quest'anno festeggia i sette decenni di vita. E che dunque, proprio a Latuil, ha tenuto il primo dei dieci convegni celebrativi. Questo appuntamento qui a Latuil diventa non soltanto un'occasione per poter avere i nostri sciatori, tutto il nostro riferimento è l'area neve, ma diventa appunto un'occasione per poter discutere anche della storia del territorio, perché la Wisp è diventata anche promozione del territorio.